Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori di messa in sicurezza ci sono due chilometri di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. In direzione Mare è chiusa l'entrata di Montelupo. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino, vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!